Salve, buongiorno brigadiere, buongiorno, e dove andate? A Palermo, Palermo, cosa trasportate? La trasportiamo, semplicissime calcolatrici, calcolatrici, collega dai uno sguardo, vado, vado, brigadi, brigadi è qua, sono tutti i fucili, fucili, calcolatrici, nel cofano tutti i fucili sono, brigadiere, noi a Palermo e Conti, così li facciamo, non ho saputo, prego, puoi andare, brava gente questa, eh?